Tutti quanti abbiamo pensato al futuro e ci aspettiamo molte cose, molti cambiamenti e molti miglioramenti. Speriamo di vedere vere innovazioni tecnologiche per rendere più facile la nostra vita quotidiana, ma quello che più ci auguriamo è poter vivere il più a lungo possibile per poterne beneficiare. Ma il futuro non è lontano, il futuro è già oggi, il futuro è adesso. Ciao a tutti, oggi vedremo in questo video i 7 gadget del futuro disponibili già da oggi. Prima di scoprire tutto questo però ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella e mettermi piace. Inizieremo subito. Andiamo! ScanMaker Air Per iniziare vedremo un oggetto davvero utile per la nostra vita quotidiana per professionisti o studenti. Soprattutto per chi desidera scansionare documenti velocemente senza dover viaggiare, eccolo ScanMaker Air del marchio ScanMaker. Un oggetto un pelo più grande di una penna che viene utilizzato per scansionare documenti e convertirli in file digitali. Questa penna offre il riconoscimento del testo, numeri e codici a barre. La connessione con un computer di tipo PC o Mac avviene tramite un cavo o tramite Bluetooth. Per quanto riguarda la compatibilità per Windows, questo oggetto è compatibile con il 7 e Mac da Mac OS X 10.7, per cellulari Android della versione 4.3 e iPhone dal 4S. Ha anche una batteria per una facile mobilità. Oltre a ciò, supporta 43 lingue di scansione. Tuttavia ve ne darò alcuni per farvi un'idea. Francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, svedese, cinese e italiano. Il grande vantaggio di questo pennino è essere in grado di scansionare solo gli elementi essenziali del documento. Va notato che ridigita il testo 20 volte più velocemente della normale digitazione. Una funzione di lettura ad alta voce consente di ascoltare il testo durante la scansione. Questo piccolo oggetto è ottimizzato per mancini ed estremoli. Dimensioni? Abbiamo 12,7 x 2,3 x 1,8 cm e possiamo dire che è davvero leggero con i suoi 27,2 grammi. Gli accessori forniti con questa penna sono un cavo USB, una custodia morbida, una guida e un dangle bluetooth. Human Headphones è una cuffia che non è come le altre. Il marchio afferma che il primo vero auricolato è wireless over the ear. La qualità del suono è davvero eccezionale, ha un bel design ed è comodo da indossare tutto il giorno. Un auricolare può trasformarsi anche in un vero e proprio altoparlante bluetooth portatile. Puoi stare insieme per ascoltare musica, guardare film, video o tradurre le lingue. Con queste cuffie umane hai anche comandi vocali e tattili per facilitare il controllo di media, telefono e assistente digitale. È inoltre dotato di una doppia batteria da 282 mAh ora che fornisce all'utente 9 ore di autonomia. I microfoni formano un raggio per fornire all'utente una qualità del suono superiore durante le comunicazioni telefoniche. Le connessioni con lo smartphone avvengono tramite bluetooth 4.2 e gli accessori sono un adottatore CA per la ricarica, una custodia da viaggio e una guida rapida. 5.3 e gli accessori di una guida rapida di una guida rapida di una guida rapida. 5.3 e gli accessori di un poi. The Native Union Night Cabal. Questo oggetto è un cavo di ricarica con nudo pesato per iPhone. Questo Native Union è un cavo Lightning con una struttura rinforzata per la ricarica ad alta velocità fino a 2.4 ampere il design o flex sulla cerniera del connettore offre flessibilità per garantire una lunga durata sono stati effettuati dei test per verificare la robustezza di questo cavo night e possiamo dire che sei volte più resistente dei normali cavi lightning per darti un'idea ha una durata di oltre 10.000 curve basata su un test di piegatura di 90 gradi in senso orario e 90 gradi in senso antiorario i dispositivi compatibili sono tutti dispositivi apple che hanno una porta lightning come iphone 5 fino all'11 e anche agli ipad la lunghezza del cavo è 3 metri offrendoti la flessibilità di caricare il tuo dispositivo ovunque e in modo comodo per quanto riguarda le dimensioni 6x8x2 pollici bose sleep buds andiamo avanti e anche ora parliamo di auricolari in ear che ti aiutano a migliorare la qualità del sonno sono stati realizzati con un design che elimina il rumore per proteggerti da possibili disturbi del sonno per farti rilassare sono presenti suoni preinstallati e scegli quello che più ti si addice esempio tranquillità una melodia fusa e piacevole simile ad una spa respiro caldo simile al rumore bianco senza le più alti frequenze parassitarie o persino pioggia gocce di pioggia che cadono sulle foglie gli auricolari wireless sono comodi da indossare durante il sonno oltre a tutto questo una funzione di sveglia ti aiuta a svegliarti dolcemente la batteria di questi auricolari è di tipo zinco argento ricaricabile in 8 ore l'autonomia arriva fino a 16 ore e la custodia offre 3 ore aggiuntive di ricarica i contenuti della confezione sono auricolari custodia conservazione tre paia di auricolari slm caricatore di rete cavo usb e custodia di avviaggio con cordino è una maschera per dormire sagomata questa maschera high tech è stata progettata per essere compatibile su un gran numero di persone grazie al suo modello big data che è riuscito a riunire più di 3000 forme di viso questa maschera esclude la luce e altri elementi di interferenza al 100 per un'elevata efficienza l'utente può quindi riposare ovunque in qualsiasi momento dopo vari test è stato notato che la pressione esercitata dalla maschera all'altezza degli occhi si riduce notevolmente dopo lunghi periodi di utilizzo il rivestimento interno setoso è stato realizzato per essere confortevole e resistente per una qualità del sonno senza precedenti il design cavo a livello degli occhi consente ai bulbi oculari e alle ciglia di muoversi liberamente durante il sogno una chiusura in velcro permette un perfetto fissaggio alla testa senza che i capelli si aggroviglino va notato anche che questa maschera è lavabile al 100 per cento per una facile cura quotidiana a tutto ciò si aggiunge una funzione audio che aiuta l'utente a calmarsi mentre indossa la maschera la maschera è ideale per viaggiare meditare pause di lavoro o dormire e per finire è utile specificare che questo dream light integra anche una funzione antirughe grazie al suo tessuto keyback ora continueremo con il keyback che è uno zaino fuori dall'ordinario il proprietario farà girare la testa non passerà affatto inosservato durante il suo passaggio è un vero zaino high tech super resistente ed elegante ha uno schermo di visualizzazione rgb flessibile con 1044 pixel per la visualizzazione di testi riproduzione musicale animazioni ha anche altoparlanti da 10 watt che danno un suono ben dettagliato con buoni bassi profondi immagina che questo sia composto da più di 200 parti in plastica elettronica e tessuto la batteria ha un'enorme capacità di 13.600 mAh permettendoti di caricare il tuo smartphone all'interno della borsa o all'esterno tramite le due porte usb e goderti la tua musica per lunghe ore la capacità del kickback è di 8 litri contenendo di trasportare diversi oggetti come ad esempio computer da 13 pollici a parte questo questa borsa ha funzionalità di tracciamento gps e ti avvisa quando il tuo telefono si allontana dalla borsa per finire il kickback ha un materiale realizzato che permette di essere resistente a graffi e danni stellina questo dispositivo permette di osservare l'universo le costellazioni le meraviglie del cielo in modo eccezionale permette di immortalare questo magico spettacolo offerto dal cielo utilizzando il suo sensore fotografico sony 1 1.8 cmos con una risoluzione di 3096 x 2080 pixel con messa a fuoco e puntamento automatici oltre a tutto questo puoi condividere le foto sui social network istiantanamente con il tuo smartphone punto 0 20 smartphone possono essere collegati contemporaneamente a questa stellina un treppiede del marchio gizzo è associato a questo dispositivo offrendogli robustezza e buona stabilità il peso di stellina è 11,2 kg le dimensioni 48,5 x 38,5 x 12,6 cm ha una batteria da 10.000 mAh ora con un'autonomia di 5 ore il tipo di alimentazione è usb di tipo c è inoltre resistente all'acqua con certificazione ip53 e gli accessori che accompagneranno questa stellina sono il treppiede gizzo da 1.3 kg una batteria portatile da 10.000 mAh e un cavo ecco per oggi è tutto spero che questo video ti sia piaciuto e se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace iscriverti al canale e attivare la campanella alla prossima apri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti